Musica Buonasera dal TG6 in apertura l'indagine sugli appalti truccati che ha visto finire in manette il sindaco di Tagliacozzo Maurizio Di Marco Testa e altre tre persone. Un'indagine solida, così l'ha definita il procuratore della Repubblica di Avezzano. Il suono delle sirene ha svegliato il piccolo paese di Tagliacozzo. All'alba di questa mattina infatti sono scattate le manette per il sindaco, l'assessore con delega alla cultura, il responsabile dell'ufficio tecnico e un architetto per tentata concussione, turbata libertà degli incanti d'asta e frode nelle pubbliche forniture. Il sindaco di Tagliacozzo Maurizio Di Marco Testa è stato portato in carcere mentre agli arresti domiciliari sono finiti l'assessore Gabriele Venturini, il funzionario comunale Giampaolo Torrelli e l'architetto Carlo Tellone. Ad eseguire l'ordinanza di custodia cautelare è stata la compagnia dei carabinieri di Tagliacozzo. Le indagini riguardano il periodo tra l'estate 2011 e il 2015. Le contestazioni riguardano incarichi di progettazione manipolati per favorire sempre le stesse persone. Nello specifico i professionisti ricevevano l'appalto con incarichi diretti per somme che andavano dal migliaio ad un massimo di 40.000 euro. Spesso gli incarichi erano eseguiti tramite una procedura d'urgenza per derogare alla prassi. Ci sono stati degli episodi singoli che sono stati singolarmente vagliati quindi non esisteva una vera e propria, non abbiamo appurato l'esistenza di una vera e propria organizzazione finalizzata a commettere un numero indeterminato di reati. Durante l'indagine sembra che ci siano state pressioni per intervenire sull'operato dei carabinieri. È emerso dalle intercettazioni telefoniche e ambientali che alcuni degli indagati hanno tentato di intervenire per bloccare l'indagine in modo particolare paventando la possibilità di rivolgersi a persone influenti. Intanto continuano le indagini sull'incendio delle tre autovetture del sindaco di Tagliacozzo avvenuto nel mese di febbraio. Non si esclude la possibile origine dolosa del fuoco e l'eventuale collegamento con il sistema di appalti manipolato. Ora torniamo a parlare delle incendie alla Italpannelli di Ancarano perché escono le prime analisi dell'Arta sulla qualità dell'aria e a seguito dell'incendio, quello dello scorso 29 febbraio, non è risultata la presenza di prodotti di degradazione termica. Lo fa sapere la prefettura di Teramo, oggi pomeriggio infatti, sono pervenuti i primi risultati sulla qualità dell'aria svolte dall'agenzia regionale su quattro campioni prelevati rispettivamente nel comune di Ancarano, in piazza Roma e in contrada Madonna Carità, presso l'asilo nido e ubicati a 1.750 metri di distanza dallo stabilimento nel piazzale della Italpannelli. Le sostanze rilevate risultano ascrivibili a fonti di inquinamento antropico e specificatamente da traffico, mentre non si evidenzia la presenza significativa di prodotti di degradazione termica. Sono tuttora al vaglio dell'agenzia i dati della centralina installata ieri per il monitoraggio dell'aria nelle 24 ore, mentre per le analisi su matrice alimentari, acque e terrene svolte dall'Istituto Zopro Firattico Sperimentale Caporale di Teramo sono stati ipotizzati tempi più lunghi data la complessità delle stesse. I prelievi erano stati disposti e effettuati nella giornata di ieri dopo un briefing operativo, a cui hanno partecipato operatori e referenti dell'ASL di Teramo e della nutrizione, del servizio igiene e alimenti, dell'igiene pubblica, della medicina del lavoro, i rappresentanti dell'arte e dell'Istituto Zopro Firattico, i sindaci dei comuni interessati. Nella medesima mattinata, rende noto infine la prefettura, sono state effettuate anche verifiche presso le aziende limitrofe alla Italpannelli, a seguito delle quali sono state autorizzate a riprendere l'attività lavorativa. Ora invece andiamo all'Aquila, perché ieri sono scesi in 500 in piazza per chiedere verità sulla strage del terremoto del 6 aprile del 2009. Per i familiari delle vittime non è stata fatta luce su questa vicenda e tutto ha avuto inizio il 30 marzo dello stesso anno con l'intercettazione della telefonata dell'ex capo della protezione civile, Guido Bertolaso, l'assessore regionale Daniera Stati. Ci dice tutto Daniera Rosone. Il 30 marzo del 2009, l'inizio della mistificazione mediatica, una telefonata tra l'allora capo della protezione civile Guido Bertolaso e l'allora assessore regionale alla protezione civile Daniera Stati. Una strage, il terremoto del 6 aprile, senza colpevoli e senza verità. Così ieri l'Aquila, con 500 persone a rappresentarla e Vincenzo Vittorini in testa, si è dato appuntamento per l'iniziativa a tutti i convocati per una giustizia italiana che non dimentichi la strage del 6 aprile. Nella famosa telefonata Bertolaso parlava di operazione mediatica per rassicurare la gente. Il giorno dopo fu riunita la Commissione Grandi Rischi. Poi, quello che tutta Italia e anche il mondo intero conosce, 309 morti. E' importante a sette anni far sentire la voce di un'intera comunità che se vuole ancora la verità è arrivato il momento di esigerla, perché? Perché fra pochi mesi si arriverà la prescrizione e di conseguenza calerà l'oblio sull'ennesima strage italiana di cui non si saprà la verità vera. Se questa è una cosa che finora abbiamo chiesto noi in pochi, però se stasera, se da questa sera lo chiede un'intera città probabilmente ci si arriverà. Ieri sono state proiettate le immagini dei funerali di Stato del 10 aprile. I parenti delle vittime hanno indossato delle maglie con la scritta rassicurato, avevo 16 anni e così via con l'età delle varie vittime. Un modo per esserci, per ricordare e non dimenticare, che però dovrebbe coinvolgere tutti gli aquilani, la città intera, la città che non si arrende. E invece spiace constatare che sono sempre gli stessi a battersi affinché sulla strage aquilana a sette anni dalla disgrazia sia fatta piena luce. Torna a muoversi la frana di Contrada Marina Mosciano Sant'Angelo. Lunedì notte il movimento franoso ha provocato il crollo di un'altra abitazione e sono sette in tutte le famiglie che da tre anni non possono rientrare in casa. Elisa Leuz. Ci troviamo in Contrada Marina di Mosciano Sant'Angelo nel Terramano. Alle mie spalle, come potete vedere, c'è una abitazione crollata. Questa abitazione è crollata lunedì notte. Per fortuna la palazzina è disabitata, poiché tre anni fa c'è stata la prima frana in questa zona. Una zona, una contrada, interessata dal movimento franoso quindi da circa tre anni. Oggi siamo venuti sul posto, poiché ieri mattina è intervenuto anche il Movimento 5 Stelle con il consigliere mercante che ha ascoltato gli abitanti e ha anche criticato la situazione. Perché pare che il governo e la regione in questi tre anni non abbia fatto nulla, neanche uno sopralluogo. Oggi noi qui abbiamo ascoltato anche i residenti della zona. Dove vive? Vive in un albergo. Poi le viene rimborsato? Rimborsato, 300 euro al mese. Ecco, 300 euro dovrei, alle spese che mangiare, dormire e vivere. Dovrebbe affrontare con 300 euro, dovrebbe vivere per un mese con 300 euro. E effettivamente non ce la fa. Ecco, raccontiamo questa situazione. Quindi nell'agosto del... quando c'è stata la prima frana qui in questa zona? A dicembre. A dicembre del 2013. E io dopo un anno ho dovuto andare fuori perché la mia è rimasta ancora intatta. Poi piano piano la frana è progredita, si è allargata e è dovuta andare bene via. Ecco, lei fa parte del comitato di Contrada Marina. Quanti abitanti ci sono qui? Noi siamo in otto nel comitato. Che siamo sfrattati. Siamo sette famiglie. Qual è l'appello che vuole fare oggi? Che niente. Io ho 40 anni di emigrante, ho fatto fuori all'estero, per farmi sacrifici, farmi questa casetta e oggi l'ho perso senza dire a qualcuno come e quando. Io non ho fatto niente per poterla perdere. Io l'ho sempre costruito come si deve. L'ho persa. Dare una sforbiciata alla tassazione locale. A chiederlo è la UIL che evidenzia come a Pescara sia stato superato quello che è il range nazionale. Paolo Renzetti. La UIL chiede una tassazione diversa per la regione Abruzzo, un taglio alle tasse locali. Segretario, tra l'altro l'Abruzzo è una delle regioni più penalizzate da questo punto di vista e soprattutto Pescara. Tutte le regioni del sud sono penalizzate da una fiscalità più pesante, paradossalmente, quando avrebbero bisogno invece di un fisco più leggero per attrarre investimenti. L'Abruzzo va sopra la media nazionale con Pescara. Paga oltre 2.000 euro l'anno a cittadino di tasse locali. Va sopra in tutte le province, tranne l'Aquila, per quanto riguarda l'addizionale regionale IRPEF e l'addizionale comunale. Noi chiediamo alla regione, siccome sta per uscire dal commissariamento della sanità, che ci è costato un di più di tasse, raggiunto l'obiettivo di restituire quel di più di tasse. Gradualmente, perché siamo coscienti che il bilancio ha le sue difficoltà, però integralmente. In prospettiva, come si può però tagliare la fiscalità in Abruzzo? Il taglio maggiore che va fatto, primo, è quello del 0,50 in più di IRPEF che paghiamo e dell'IRAP in più che pagano le imprese a causa del vecchio deficit della sanità. E ovunque, regione comune, è ora di non avere più l'aliquota secca. Non è giusto che tutti paghino la stessa cifra, ma ci siano gli scaglioni di reddito, come vuole la civiltà fiscale. Sono senza stipendio i dipendenti della Olicar, la ditta che si occupa della manutenzione degli ospedali cittadini. Il 12 aprile i sindacati hanno proclamato lo sciopero e l'azienda attraversa una grave crisi finanziaria, ma non è giusto, spiegano le RSA, che siano i lavoratori a pagare. Andiamo all'Aquila. Uno sciopero previsto per il 12 aprile. A farlo saranno i dipendenti della Olicar, dei presidi ospedalieri dell'Aquila, Vezzano Sulmona e Castel di Sangro. Ad annunciarlo sono stati sindacati. Neanche l'impegno assunto in prefettura il 15 marzo scorso, finalizzato a regolarizzare l'erogazione degli stipendi entro il 25 marzo, scrivono i sindacati in una nota congiunta, è stato onorato dall'azienda Olicar. La Olicar, lo ricordiamo, è l'azienda SPA che nel gennaio 2013 è subentrata nei servizi di manutenzione di tutti i presidi ospedalieri della provincia dell'Aquila, imponendo ai lavoratori, unit lateralmente, il contratto dei multiservizi, al posto di quello precedente dei metalmeccanici. La giornata di shopper inizierà alle 6 del giorno 12 e terminerà alle 6 del 13 per i turnisti. I giornalieri invece si asterranno dalle 8 alle ore 17 del 12. Saranno garantiti i servizi essenziali ai cittadini, come da previsione di legge. La Olicar sostengono i sindacati a gravi difficoltà finanziarie e non è un caso che da tempo è in trattativa con altra società per essere venduta. Ma i lavoratori perché devono pagare il costo della crisi finanziaria, anzi del distesso aziendale, dopo aver subito anche le decurtazioni dei salari per il cambio del contratto? Ora andiamo a Pescara dove questa mattina al vaglio del Consiglio Comunale c'era l'istituzione della tassa di soggiorno. Pronte le opposizioni che con oltre 300 emendamenti hanno fatto slittare a domani il proseguo del contendere, ma intanto sentiamo quelle che sono state le dichiarazioni delle parti. All'esame del Consiglio Comunale oggi anche la tassa di soggiorno, qual è la posizione del Movimento 5 Stelle? Per noi la tassa di soggiorno dovrà essere tutta quanta inserita per finanziare gli interventi che saranno predisposti all'interno del piano marketing del turismo. Questo dovrà essere elaborato attraverso la presenza di un tavolo tecnico del turismo in cui ci saranno rappresentanti del comune, quindi di maggioranza e opposizione, e soprattutto dei rappresentanti di categoria, perché se noi applichiamo una tassa che riguarda ad esempio la categoria degli albergatori, ci sembra più che giusto che loro abbiano voce in capitolo per scegliere poi gli interventi su cui questa tassa dovrà essere riversata. Questo momento storico, parlare di tasso di soggiorno, è quanto mai improponibile e inopportuno, in un momento in cui Pescara sta soffrendo per quanto riguarda la balneazione, per quanto riguarda la problematica dell'aeroporto, ma principalmente perché dietro questa tassa di soggiorno non c'è un piano marketing dettagliato, quindi noi oggi non sappiamo a cosa andrebbe rivolto il gettito che verrebbe introitato. PD chiaramente è favorevole a questo strumento perché consente senza aumentare le tasse ai pescaresi di trovare nuove risorse per investire sul turismo. Noi crediamo che oggi il turismo e il commercio siano le uniche fonti di reddito per decine di migliaia di persone che gravidano sul pescare e oggi con questi strumenti si potrà finalmente investire qualcosa in più per migliorare sia l'accoglienza, sia gli strumenti, sia i servizi per i turisti. Il Palacongressi di Montesilvano ospiterà da domani e fino al 3 aprile l'Ist Cost Tatuna Kermes con in gara i più grandi tatuatori. Vediamo. Torna, come ogni anno per la dodicesima volta. Siamo ben lieti di averla portata qui nella struttura del Palacongressi di Montesilvano. E' cresciuta, è cresciuta parecchio. Quest'anno 163 artisti all'opera da tutta Italia, qualcuno da Singapore, i soliti nomi illustri abruzzesi che non mancano mai, nonché nomi illustri italiani quali Becchi, Zattera, Rondinella che è l'origine del tatuaggio romano e poi quant'altro che verrete a vedere. Tre giorni in cui vedremo che cosa? Vedrete di tutto. Allora, qui vedete già la tattoo model Theia Salet, che sarà la madrina dell'evento. Vedrete spettacoli, vedrete un'esposizione di installazioni di sculture dei Mutoid, vedrete sculture varie di artisti attinenti all'ambiente, pittura e quant'altro, e tatuaggi, artisti all'opera. Noi abbiamo fortemente voluto che questa dodicesima edizione della East Coast Tattoo Convention si potesse realizzare sul territorio di Montesilvano. E' una convention internazionale, importantissima, consolidata ormai, che porterà numerose presenze in un periodo comunque altrimenti non molto vivo per la nostra città. Ed è quindi questo un motivo di orgoglio. Ci saranno tantissimi artisti, è un evento di spicco in un mondo, quello dei tatuaggi, che ormai sta prendendo piede a 360 gradi nella vita quotidiana di ogni ragazzo, diciamo. Ma non solo, perché comunque coinvolge persone e realtà da più giovanili fino anche più adulte. Venerdì sera al Teatro Circus di Pescara sarà in scena il musico La Bella e la Bestia, la Rosa Magica. Lo spettacolo, realizzato dall'Associazione Gli Strionici di Sulmona, ha una particolarità, un cast formato esclusivamente da giovani. Alfredo Primante. E' uno spettacolo questo che trae le sue origini anche da uno spettacolo per bambini, però non è solo uno spettacolo per bambini, anzi. No, è uno spettacolo molto eterogeneo, sia da un punto di vista del cast presente in scena, sia da un punto di vista artistico, in quanto comprende varie sfaccettature, la danza, la recitazione e il canto. Il cast artistico è formato da me, che sono sia il presidente dell'Associazione, che il direttore artistico, da Chiara Fiore, che è la coreografa, e da Sara Di Sciullo e Pasquale Di Giannantonio, che sono i registi dello spettacolo. E' un cast formato tutto da giovani? Sì, un cast formato prevalentemente da giovani. Siamo anche noi attivi nell'ambito teatrale, musicale, e alcuni di noi esercitano questa come professione, per cui abbiamo formato alcuni coetanei e non solo, anche persone più grandi di noi, per far sì che lo spettacolo reggesse nella maniera più bella e importante possibile. E' uno spettacolo adatto a tutte le età, non solo ai bambini, ma anche agli adulti, o forse il contrario? No, in realtà è adatto sì a tutte le età, proprio perché la vicenda ha anche dei risvolti particolari. Ci sono delle chiavi di lettura che sono identificabili anche da un pubblico adulto. La bestia, la bestialità, l'amore che va al di là di qualunque barriera, di qualunque frontiera, e non solo. In onda una nuova stagione di Empatia in Co, la trasmissione realizzata da Vestina News, in onda sulla nostra rete. Vediamo. Con Cristiana Carradori parliamo del progetto Empatia in Co. Un anno e nuovi progetti, nuove cose da fare. Quali in particolare? Allora sì, un anno di progetto Empatia in Co, su TV6, grazie anche a Vestina Web che ci supporta. Abbiamo portato informazioni sulla salute, il benessere e l'ecosostenibilità in modo divertente, facile e piacevole. Quindi sì, abbiamo avuto grandi riscontri, tantissimi incontri gratuiti. Da lì quest'anno le novità saranno appunto che organizzeremo degli eventi, eventi conviviali ancora più divertenti. Il 2 di aprile saremo al Grand Hotel Adriatico, sarà una grande festa, cena vegetariana alla portata di tutti. Saranno al mio fianco due business life coach, Simone Barbato e Stefano Tassone, che animeranno e divertiranno un po' tutti. E in più ci sarà anche il dottor Pietrangeli che darà input salutari. Non svegliamo il resto della serata ma ci sarà tanto, tanto, tanto intrattenimento. Come dicevi tu prima, giustamente la particolarità di questo progetto di Empatia in Co è quello di spiegare, di parlare di salute in una maniera leggera e anche simpatica. Simpatica, facile perché ci deve essere un po' tutto. Cerchiamo di unire l'utile al dilettevole. Cerchiamo anche di sostenere delle realtà importanti, infatti in questo primo evento andremo a sostenere l'Assis, l'associazione, anche il progetto Spazio in Più di Pescara, che ci supporta anche tanto. Noi diamo anche a loro una mano, un sostegno e quindi invitiamo tutti quanti a partecipare ai nostri incontri. Seguite le nostre pagine Facebook Empatia in Co, siamo sul web, sarà una grande festa. Ora apriamo la pagina dello sport, iniziamo con la Serie B e con il Pescara. Uomini contati per Massimo Oddo nel settore arretrato dove potrebbe esordire il giovane Vento, l'abbondanza centrocampo e con il Como d'obbligo c'è la vittoria. Noi ci ascoltiamo invece quelle che sono le dichiarazioni del portiere Simone Aresta. Sabato dobbiamo vinciare a tutti i costi ma dobbiamo scendere in campo senza paura perché la paura non deve esistere un calciatore. Quindi sono convinto, ho visto i miei compagni carichi, sono convinto di farmi una bella partita. Come ho detto prima, il problema grosso è che non c'è un problema. Purtroppo sono una serie di episodi, una serie di cose. Il Pescara ha sempre giocato, ha sempre provato a giocare, a parte a Terni dove ci siamo un po' abbassati rispetto al solito. Però la prestazione è mancata, soprattutto a livello difensivo, visto che abbiamo concesso solo un tiro in porta. Quindi questa squadra non è morta e sono sicuro che la barca non affonda, anzi ci riprenderemo. Ma soprattutto a mio dispiace perché poi entro in spogliativa dei miei compagni con la testa bassa che si chiedono che dobbiamo fare. Sono cose che ti fanno male però devi reagire. Io personalmente ho fatto i complimenti a Campagnaro, a Fornazie, a Zuppa Ricci, anche alla Padula e Cocco che comunque ci hanno dato una grandissima mano in un momento di difficoltà per noi dietro. Quindi ho solo detto a loro che non dobbiamo mollare, dobbiamo entrare ancora con più sangue agli occhi e poi alla fine i risultati arrivano. La squadra è assolutamente al mille per mille con Oddo. Su questo non c'è nessun ombra di dubbio, non c'è ne uno che rema contro. Assolutamente. Ma deve stare tranquillo, io quando analizzo un portiere guardo un po' quanti punti mi ha tolto, magari Fiorillo ne ha tolto 3-4, quanti me ne ha portato, penso una quindicina. Quindi stiamo parlando di niente, il campionato di Fiorillo è assolutamente positivo. Anticipo da brividi per i rossoneri della Virtus impegnati domani con l'anticipo di Crotone. Maraiulo sarà privo degli infortunati, Salviato e Di Francesco. Vediamo. La Perugia ha fatto una grande partita, forse noi eravamo un po' sottotono, cosa che per salvarci non dobbiamo assolutamente permetterci. Siamo già confrontati tra di noi, ci siamo detti delle cose che non devono ricapitare perché si può sbagliare una cosa tecnica, ma l'atteggiamento noi non lo possiamo lasciare agli altri, quindi bisogna sempre noi avere un atteggiamento cattivo rispetto alla squadra avversaria. Siamo consapevoli che bisogna fare ancora tanti punti per salvarci. E' chiaro come ho detto prima che per fare questo, per salvarci, non bisogna scendere con quell'atteggiamento in campo perché siamo sembrati passivi. Io lo voglio prendere come un incidente di percorso perché nelle scorse partite abbiamo dimostrato, ci sono stati due mesi in cui abbiamo dimostrato che la Virtus è un'altra squadra e già da venerdì lo dobbiamo mettere in alto. E' chiaro che giocare contro la capovolista, sarà una partita difficilissima, però il cambiato di bici insegna che tutte le partite si devono giocare e ci sono risultati sempre nel sol 30 anni ogni sabato, quindi non vedo perché noi non possiamo andare a vincere a Crotone. E sul match di domani interviene anche l'allenatore del Crotone, Ivan Juric, che si rivolge ai tifosi e chiede uno stadio gremito per il match contro i Frentani che potrebbe sancire al di là della matematica la promozione diretta della formazione calabrese in Serie A. E' una squadra che ha fatto un grande girone di ritorno, anche se ha perso tanti giocatori, invece ha trovato giovani di corsa, di volontà, si è creato anche un bel gruppo, mi sembra che stanno facendo veramente bene togliendo la ultima che anche il loro allenatore non ha apprezzato molto la prestazione. Secondo me per noi è molto importante, lo dobbiamo affrontare veramente con cattiveria giusta dall'inizio della gara, pensare solo e esclusivamente a fare risultati. Ma fanno anche buone prestazioni fuori casa, dove ripartono in grande velocità, hanno giocatori veramente interessanti, sicuramente ci aspetterà, è normale che ci aspettano un po' più basso, per cui bisogna veramente giocare bene, ma altrettanto stare attenti e non pigliare i contropiedi. Quando vedo classifica in situazione è la partita più importante della storia, perché veramente se noi vinciamo facciamo un passo avanti molto importante, per cui dobbiamo affrontarla come una finale, come se fosse finale del play-off. Ora scendiamo in Lega Pro, ci occupiamo del termo, è arrivata ieri nel pomeriggio, la notizia che i giocatori del Rimini potrebbero scioperare, quindi non giocare la partita di sabato al Bonolis con il Teramo. I romagnoli infatti sono senza stipendio da mesi e nella loro protesta sono sostenuti anche dall'Associazione Calciatori. In campo potrebbe scendere la Berretti per evitare la sconfitta a tavolino, intanto invece ci andiamo a ascoltare uno dei protagonisti della seconda parte del campionato del Teramo, il difensore Luca Cecchini. È stata fondamentale per noi, per avvicinarci alla salvezza sicuramente, per ridarci un po' di slancio dopo gli ultimi pareggi, per il pubblico, perché era ovviamente un derby, quindi una partita sentitissima, e ci dà morale per affrontare al meglio queste partite. Penso che matematicamente ancora non si sa, però potrebbe essere quasi quella decisiva in caso di vittoria. Noi ovviamente ci impegneremo al massimo, è un'altra partita in casa che finora abbiamo sempre fatto bene, quindi cercheremo di continuare, di finire quest'anno mantenendo inviolato il nostro campo. Comunque finora è andata bene, per il fatto che rimango bloccato, comunque sono terzo centrale, quindi posso, secondo i dettagli del Minister, fare qualche sortita, ma ovviamente non andando sempre, comunque essendo il terzo centrale, poi rischierei anche di creare degli scompensi e lasciare dei buchi per troppe ripartenze degli avversari, quindi bisogna un attimo equilibrare la cosa. Il Minister sceglie quello che pensa sia meglio, magari più da tirarle a me probabilmente, se potevo fare qualcosa in più sicuramente, perché si può sempre fare meglio, e se non ho guadagnato la fiducia già da prima del Minister, magari qualche colpa va a me, magari ho l'impegno, ho la concentrazione, comunque potevo fare sicuramente qualcosa in più. Mi sono trovato bene, poi ovviamente il futuro adesso, io sono in presto, quindi non aspetta a me scegliere, però comunque è una piazza calda, mi sono trovato molto bene. Grazie mille. E con questa news noi concludiamo la seconda edizione del Tg6, il prossimo appuntamento è quello delle 23, buona serata. Grazie mille.